il rosso caccia tutti fuori dalla live perché non apprezzano i suoi capelli ma io in tutto ciò io dov'ero scusami no tu lo sai che è saluto ma quanto cazzo parli fishmix quanto cazzo parli porca troia quanto parli ma io stavo parlando tu mi devi interrompere mentre sto parlando che cazzo mi vedi a fare allora ma perché sei magari però come presenta sì non avete presenza vi piace i miei capelli volevi mettere bene quando avevo messo la crema ondulati volevo imitare i miei idoli in sespo e simone ma te lo stesso naturale fuori fuori oggi sembra che ne hai di più i capelli sì no in realtà le hai messe tipo alla leo di caprio tipo capito fuori sembra un po' che c'hai la simpia comunque secondo me ha sgravato ha sgravato lo sapevo lo sapevo stavo per me siamo solo io e te che sfiga allora aspetta un attimo eva menta dovrebbe essere caduta commozione cerebrale no come si dice commozione sì 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 sì